Veramente con enorme soddisfazione che salutiamo questa seconda edizione estiva del Cammino Terramano. Sta ormai diventando una tradizione, è una cosa sempre più radicata, sempre più conosciuta e che sarà particolarmente utile a tutto il movimento del turismo religioso, direi di tutto l'Abruzzo, non solo del Terramano, perché è una cosa che sta andando veramente ben oltre a quello che è lo spilto del pellegrinaggio per coinvolgere veramente tutta una movimentazione turistica e religiosa. La nostra regione è bellissima, soprattutto guardate questo posto dove siamo questa mattina incantevole e che vive anche di turismo, di turismo religioso, in maniera particolare la nostra provincia e quindi siamo qui a rappresentare l'importanza di questo evento, di essere a fianco a tutte quelle che sono le molle economiche della nostra economia, soprattutto in maniera particolare quella che riguarda il turismo, soprattutto in un periodo estivo e in una città bella come Giulianova e in uno di quei posti più belli forse che abbiamo oggi in Abruzzo.